Ciao a tutti! Continuiamo gli eventi a tutto gas Acceso, sì, meno male Iberian Super Jet 750K 3 gare da 5 giri, si fa anche veloce Con la Yamaha è migliore in maneggevolezza, è frenata Allora, qua difficoltà 80 Assolutamente dura perché la pista è molto lunga Lunghissima, ci vuole 3 minuti e mezzo al giro 3 di più anche Allora, qui? 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 Grazie a tutti. 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 Arrivati alla fine. Troppo lunga come pista. È noiosa. Andiamo al Garve 5 giri. Partito non benissimo però. Questa variante mi fa schifo. Usa il ruolo. E' un ruolo. E' un ruolo. E' un ruolo. E' un ruolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Possiamo andare veloce, tanto c'è il vuoto dietro, anche ho tanta di difficoltà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vinta la seconda, anche qui il grande distacco. Passiamo all'ultima, la terza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.